Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, un saluto da Matteo Iosco, benvenuti in questo nuovissimo video Se parliamo un po' troppo veloce ne riesco a fermare, bla 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 Vabbè, quest'oggi siamo in compagnia di un nostro amico, saluta Bella Quest'oggi proveremo ad arrivare a livello 100, che mi manca veramente poco Però, chi lo sa, potremmo anche non riuscire ad arrivare Potrebbe anche crasharci Fortnite, chi lo sa Ma dove cavolo è? Non può pompa carica, let's go E non lo trovo Comunque se mi è risa perché facciamo le missioni e arriviamo più velocemente a nuovi livelli Nuovo livello, livello 100, let's go Perfetto Brava, mi fai livello a 116, però Conta che ho scioppato 20 livelli Io? No, io Quando? Eh, quando sono in Ceri, ero in Volcanza Ma perché Gigi manda messaggi, basta? Non lo so Ti prego non mi dare il copyright Ma non sto cantando Eh, però se canti è un problema grosso Ma io? Eh, sì, tu Sì, io Ma sì, che tocca, non è un'unicita Scusa Ancora quest'oggi moriremo da 6 No, dai, scherzo Io sicuramente Vabbè, io muoio da 6 Mi sto libertando da 6 Via, 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 via Via, 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 via Via, 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 via Via, 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 via Vabbè, muoio Secondo me non la farò mai la missione di ritrovare l'elemento suante che restano in niente Perché davvero Sì Te l'ho fatta a suicidarmi con le granate Bravo Guarda, nessuno ce l'avrebbe mai fatto Ma non è l'acqua, è difficile Ho sentito vita Boom, si è morto Ma non sei se davvero ucciso Buongiorno Mamma mia Cioè Boh Due secondi fa Ehm Ho cominciato Io non favo Pi novanta Bravo Ah no Che giovane Boom Faccio questo Prendo questo Aiuto Quanti scritti hai al momento? 16 Vedo Oddio Chi è che mi ha? Qualcuno da me? Buongiorno Ah no, è un amico Ah no, è un amico No, no, mi sa che sono un amico Il copyright Non te lo dà, fidati Se uno canta non è che... Quando uno canta dai copyright Ma guarda questo più sale Quando uno canta dai copyright Dai copyright se Se? Metti la musica Anche se la canti No Ce l'ho più di... Ce l'ho più di... Il canale ce l'ho più di... Ce l'ho più di... Ce l'ho da più tempo di te Quindi In verità non è vero Ce l'ho da molto più tempo io Quanti scritti hai? Vabbè ma non ho fatto mai video È normale che... Guarda ci credo assai Ti... ti giuro Da che mese c'hai? Da poco Però almeno il mio è online Io ce l'ho dal... Dalmeno all'anno scorso sicuro E almeno il mio non è privato Almeno il mio è privato Noi... Hai mai fatto un video? Si Iscritti? Vabbè ma... Non me lo ricordo Più di meno di una Anche ma ne ho fatto solo due adesso Quindi? Quindi? Stavo più tempo io Mi ho messo il copio Ma... No... Brani? Ho messo il copio Da te Ma... Flavio... Ti chiudono il canale Perché tu hai dato il copyright a me No, non c'è scritto da nessuna parte No, non c'è scritto da nessuna parte L'hai detto Non c'è scritto da nessuna parte Fai più schifo del pane con l'uvetta Cosa? Oh Dio Oh sono morto Comunque io ho guitto Perché? Per prendermi le skin Ovvio Perché non trovo i player Oh l'ho chillato Ho fatto pure l'immino ai giochi d'ore 80.000 XP Sì 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 Le cose Sì Ma perché lì è succedendo il casino Qua che tu c'è tu? Dovevo poi pitare Mamma mia Voglio farlo No Me la No Me la Oh Oh